Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Fallout, il gioco di ruolo ufficiale edizione della Modifius e in questa edizione italiana che vedete qui davanti a cura di Need Games che ovviamente e come sempre ringrazio di cuore per la collaborazione e per avermi inviato questo materiale qui. Si va a parlare ovviamente di un gioco che ha fatto la storia dei videogiochi fino al primo Fallout che io ho amato alla follia, il primo quello isometrico visto dall'alto il secondo che ha modificato un po', ha cambiato un po' le carte in campo inserendo la benzina, le prime macchine un po' le radiazioni che vanno a finire, quindi il decadimento atomico che un po' va a scomparire lasciando comunque sempre la solita ambientazione che conosciamo alla Mad Max per poi passare a titoli un pochino più avanzati come Fallout Tactics, Fallout 3 o i recenti Fallout 4 e Fallout 76 senza dimenticare, che me ne stavo già dimenticando nel video i dadi che possono essere acquistati separatamente come materiale opzionale potete usare tranquillamente dei dadi da 20 e dei dadi da 6, non serve nient'altro e i tappini della Nuka Cola che come ben sapete sono le monete nell'ambientazione di Fallout quindi merci di scambio oltre alle armi barate e quant'altro ci sono anche i vecchi tappini quindi iniziate a mettere da parte i tappini della Coca Cola perché un giorno potreste essere ricchi ed è quello che ci insegna Fallout ve ne parlo a breve dopo la sigla Fallout, il gioco di ruolo gioco della Modifius in questa edizione italiana a cura di Need Games è il classico gioco di ruolo dove un gruppo di giocatori andranno a creare i loro personaggi e la storia sarà gestita e portata avanti da un Dungeon Master che dovrà creare tutte quante le situazioni che i giocatori non solo dovranno andare a risolvere ma anche ci si dovranno scontrare quindi il Dungeon Master è quello che narra l'avventura e quello che narra la storia i giocatori sono quelli che la vivono e ne cambiano il corso perché niente è mai deciso il Dungeon Master secondo me si dovrebbe limitare unicamente a creare una bella storia e i giocatori a viverla e cambiare anche la possibile andata e anche magari stravolgendo quello che è in testa Dungeon Master e in questo manuale di Fallout che tra l'altro come vedete ora a video è anche veramente bellissimo a parte che è immenso, bello grande, ha tantissime pagine però è anche corposo, pieno di materiali, pieno zeppo di illustrazioni è una gioia per gli occhi anche di chi lo potrebbe comprare prettamente per collezionismo puro collezionismo e mia moglie ad esempio è innamorata di Fallout infatti è un gioco che è molto fascinoso e anche storico ed è un gioco alla fin fine come nel buon vecchio regolamento della Modifius noi abbiamo delle caratteristiche, una difficoltà da eguagliare o superare e il gioco è molto semplice, ci va a spiegare che quando andiamo a creare il personaggio abbiamo delle caratteristiche che sono le caratteristiche special e le caratteristiche special sono tipo forza, fortuna, se vi ricordate carisma, prontezza e quant'altro e quelle caratteristiche possono andare da un minimo di 4 a un massimo di 10 poi alcune creature potrebbero anche sfondarle o magari un'armatura darvi un bonus particolare però diciamo da 4 minimo all'inizio a 10 massimo mentre invece le caratteristiche che sono le abilità, scusate, le abilità vanno da un valore di 0 a un valore di 6 quindi un'abilità potete avere anche un valore 0 e provare un tiro io ho l'abilità di meccanica 0, magari va su intelligenza tirerò soltanto il mio valore di intelligenza come si fa una prova? la difficoltà di una prova è sempre data dalla caratteristica collegata all'abilità quindi mettiamo caso, se io ho ad esempio forza a 3, 4, se io ad esempio ho forza a 5 e l'abilità armi da corpo a corpo, combattimento ravvicinato a 5, 5 più 5 fa 10 questa è la difficoltà che dovete superare, dovete fare uguale o meno per superare appunto questa prova quindi se avete una caratteristica altissima, l'abilità altissima che ve le mandano, che ne so, a 14, 15 sarà difficile fare da 15 a 20 sul dado da 20, a parte un po' di sfiga c'è sempre laddove un risultato di 1 è sempre un successo critico un risultato di 20 è sempre un fallimento critico di solito il fallimento critico fa succedere qualcosa colpisci però la tua arma si rompe il successo critico sono due successi e c'è una classe di difficoltà data dal dungeon master il dungeon master vi dice ok, per fare questa prova di riuscire a sfondare quella porta devi fare una prova di forza più collegata alla tua prova di colpire con l'arma magari un'arma potenziata, un'arma laser o cose del genere e devi fare almeno due successi infatti le prove vanno da un successo automatico che è 0 quelle che non devi praticamente fare nulla, devi solo tentare poi quelle minime di 1 a un massimo di 5 o 6 quindi te devi fare tanti successi devi superare tanti successi quanti sono appunto le difficoltà il livello di difficoltà dato dal dungeon master e chiunque tira due dadi di base si tirano due dadi se come ho detto prova di combattimento prova di attacco la tua forza è 5 e la tua abilità con la mazza e con le armi da corpo a corpo è 5 5 più 5 è 10 tiri due dadi ciascun risultato che fa meno di 10 è un successo se invece quel dado fa un 1 è un doppio successo quindi 2 e 1 sarebbero 4 successi magari un 7 o un 8 sarebbero un successo a testa quindi due successi dungeon master ti ha detto che la prova ci volevano due successi superati ma se dungeon master ti dice la prova si supera con 4 successi perché è una prova difficilissima a creare un terminale di cui non si sa assolutamente niente programmato con un linguaggio di programmazione arcaico antico che nessuno conosce e di cui magari non hai un libro su cui documentarti come faccio a superare sta prova se posso tirare solo due dadi ci vengono incontro i punti azione si guadagna un punto azione ogni qual volta si va a fare una prova e questa prova o viene superata il tiro di un dado viene superato con un critico oppure ogni qual volta la prova viene superata in maniera esemplare allora noi abbiamo un pool comune che arriva da 0 a 6 quindi per tutto il gruppo di punti azione questi punti azione possono essere usati per tirare un dado in più per incrementare un danno oppure possono essere usati per altre meccaniche quindi mettiamo a caso noi nel nostro pool comune a tutti i giocatori quindi se uno li finisce tutti quell'altro non può fare niente sceglie di usarne da 1 a 3 che è il massimo per ogni azione decide di usarne 2 quindi a quel punto i due dadi che ha di base quattro personaggi io ne tira altri due perché lui dice la prova il dungeon master mi ha chiesto 4 di difficoltà e io devo fare 4 successi quindi almeno che non faccia un critico sarà veramente dura prende 4 dadi e li tira se tutti e 4 dadi sono meno di quel 10 o più meno di quel 10 come detto ha superato la prova se magari fa 7, 4, 3 e poi fa un 18 quel 18 era superiore al 10 e quindi ha fallito levando 1 d'ecco e 4 che gli servivano appunto per superare la prova e quindi la prova viene fallita attacco, non colpisco provo a sfondare la porta non la sfondo provo ad hackerare il terminale il terminale nemmeno si accende o non capisco il linguaggio di programmazione e questo è il regolamento base poi ci sono le prove contrapposte chi fa i migliori risultati vince ci sono le ferite perché in questo gioco ogni arma ti dice magari un'arma arcaica mezza rotta o un fucile d'assalto magari l'arma mezza rotta tira 3 dadi il fucile d'assalto ne tira 6 o 7 prendete i dadi da 6 semplicemente di fallout li andate a tirare e a parte i simbolini che ci sono sopra che vi fanno vedere una ferita perché poi sul dado le 6 facce quali sono o una ferita o due ferite o due nulla perché anche sul dado c'è nulla hai colpito ma non gli hai fatto niente oppure vengono fuori anche degli altri faccini che sono l'attivo di un'abilità e questa è una cosa carina perché magari se usate un'arma laser che come abilità affonde le armature se colpite normale ha fatto un danno ma se riuscite ad attivare la sua abilità gli fondete anche l'armatura ci sono le armature che funzionano come in un qualsiasi gioco riducano il danno e qui ci sono le famose armature le power armor quelle della brother hood of steel le armature potenziate atomiche che sono veramente molto potenti e quando vi sparano addosso magari un'armatura potenziata mark 3 e mark 4 toglie anche i 7 danni quindi capite bene che almeno che non ci sia un valore di penetrazione alto o appunto l'abilità di un'arma la vostra armatura vi farerà qualsiasi danno ma l'armatura atomica resiste anche contro le armi laser o semplicemente anche con esplosioni di dinamite quindi voglio dire è una cosa che dovete dare ai giocatori più avanti nel gioco quando diventeranno delle leggende non potete fargliela trovare così all'inizio su un tetto come alla fallout 4 e comunque l'ambientazione c'è tutta c'è il commonwealth tutte le razze potete scegliere il background del passato del vostro personaggio potete scegliere la vostra razza umano oppure super mutante goal varie non classi perché qui la classe non c'è è come mettete le caratteristiche che fanno il personaggio però comunque sarebbe brutto racchiudere fallout in delle classi però ci sono dei background che vi dicono che eravate prima e le varie caratteristiche abilità e anche talenti da scegliere perché il personaggio è fatto è creato da caratteristiche collegato in abilità e poi ci sono i vari talenti ovviamente quindi il gioco a livello di regolamento è veramente facile è il classico gioco dove quando arrivate a 0 punti ferita finite in terra e quando sparate a qualcuno dovete tirare il dado per vedere che location avete colpito perché è fallout quando sparate magari oppure potete fare colpi mirati per colpirla una gamba magari questo c'è un'armatura che gli copre tutto il corpo però boh non gli copre le braccia qui ho le gambe quindi potrebbero essere zone scoperte un critico può strapparti una gamba o renderti incapacitato romperti le ossa è il classico fallout dei videogiochi in conclusione questo fallout è il gioco di ruolo a cura di Need Games che ovviamente ringrazio di cuore come sempre è un titolo alla portata di tutti è un titolo relativamente semplice non ha troppe cose da farti impazzire è un sistema rodato già da altri giochi e che è riportato qui in questo nuovo che funziona anche tranquillamente e soprattutto è un'ambientazione carina ed evocativa che per me potete farla provare almeno da farle provare anche a chi non gli piace prettamente un'ambientazione post apocalittica perché in fallout c'è di tutto e fallout a differenza di un wasteland parlando di videogiochi che è il suo predecessore non si prende mai troppo seriamente fallout alla fin fine c'è sempre un po' quella cosa sopra le righe quindi non è un gioco cupo alla wasteland o alla warhammer 40.000 è un gioco un pochino più si fa a vivere via insomma diciamo è più anche d'azione più di scoperte e cose del genere secondo me ci potete provare a mettere chiunque al tavolo per tutti quanti gli amanti di fallout è un must have perché è un manuale che anche se non giocate di ruolo io vi consiglio di prendere perché poi abbiamo anche quello chiuso col nastro perché li avevamo aperti tanto materiale fatto bene e originale tipo i tappini e i dadi dai che sono bellini anche da esporre magari nella sezione accanto del vostro callax accanto ai giochi di fallout che avete sono veramente carini e fanno figura poi sono belli vada là colpite al braccio destro colpite alla gamba sinistra il dado da tirare per vedere come dicevo prima le location quindi è veramente molto interessante se lo volete ordinare come sempre primo link in descrizione in tutti i video e in sovraimpressione dalla gioco libreria semola nostro negozio sponsor non soltanto al miglior prezzo sul mercato ma se andate sul sito scrivete fallout il gdr lo trovate ma è finito bollino rosso oppure proprio non c'è nel catalogo ci sono tutti i giochi nuovi però magari non c'è non è stato inserito mandate una mail a corrado al supporto della gioco libreria semola e fatevi presente che arrivate dal mio canale dal canale di koridan se un gioco è finito non ci sono scorte in magazzino o proprio non c'è in lista fate richiesta per averlo e fare al possibile se è un gioco abbastanza recente per trovarvelo quindi il supporto della gioco libreria semola è eccellente perché ditemi quale negozio vi dice no il gioco non l'abbiamo in catalogo non c'è no lui fa il possibile si adopera per trovarvelo anche se non ce l'ha in catalogo quindi magari l'ordina dei fornitori anche se non è presente andate a vedere e non vi dimenticate di usare sempre il mio codice discount personale Coridan 7 tutto scritto maiuscolo al momento dell'acquisto codice discount Coridan 7 per avere uno scontro del 7% e per spese superiori ai 79 euro spese postali e corriere gratuito in 48 ore in tutta Europa state anche fuori dall'Italia in Francia in 48 ore e vi arrivo a casa quindi il servizio è eccellente e gioco libreria semola si attesta sempre per me il top sul mercato e da cui fare acquisti e poi anche il servizio è impeccabile se avete qualche domanda fatela direttamente al supporto ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate ed è Fallout GDR per tutti gli amanti del gioco di ruolo di Bethesda secondo me è arrivato il momento di giocarlo anche al tavolo ciao ragazzi alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook al canale mio di Live Twitch alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì ciao alla prossima